La stagione Fortitudo 2018-2019 inizierà ufficialmente con il raduno previsto alle ore 17 davanti al Paladozze che sarà preceduto dalla presentazione delle maglie da gioco e dalla scelta da parte di Capitan Mancinelli della terza divisa tra tutte le proposte arrivate dai tifosi nelle scorse settimane. Dopo il consueto bagno di folla di metà pomeriggio in Vianannetti, la squadra di coach Martino salirà subito a Lizzani in Belvedere dove sabato si aprirà anche la campagna abbonamenti e ci sarà il primo allenamento aperto al pubblico e a seguire ormai la classica festa con i tifosi che culminerà nella presentazione della squadra. Un'estate tutto sommato tranquilla per la Fortitudo, pochi proclami e tanto lavoro per costruire una squadra che nell'anno delle tre promozioni rilancerà le proprie ambizioni e l'obiettivo pur non dichiarato di tornare nell'Olimpo della nostra palacanestro. Gerarchie chiare ben definite ad ogni giocatore di un gruppo cambiato per sei decimi spetterà un ruolo fondamentale negli equilibri che andrà cercando il nuovo timoniere bianco-blu Antimo Martino, un quintetto di alto livello, Fantinelli, Esbruck, Rosselli, Mancinelli, Lunen e una panchina funzionale da cui saliranno i confermati Cinciarini e Pini e i nuovi Venuto, Benevelli e Sgorbati. L'unico dubbio, secondo alcuni addetti ai lavori e qualche tifoso, riguarderebbe l'età media della squadra che è piuttosto avanzata ma giocando una volta a settimana questo fatto non dovrebbe costituire un problema. La Fortitudo punterà a vincere la regular season per evitare di dover passare dalla lotteria dei play-off che negli ultimi anni l'ha sempre condannata tra ultimo e penultimo atto. La concorrenza sarà importante, soprattutto quella di Treviso nello stesso girone dei bianco-blu, ma la Fortitudo, che tra qualche giorno annuncerà anche il nuovo main sponsor, ha tutte le carte in regola per primeggiare.